Grazie Presidente. Oggi discutiamo questa mozione particolarmente importante perché stiamo parlando di un Dipartimento di Roma Capitale che svolge un ruolo nei momenti di emergenza, ovvero quello della protezione civile. Allora, innanzitutto ovviamente questi sono degli aspetti normati da leggi nazionali e Roma Capitale ha un piano di emergenza comunale pubblicato sul sito che risale al 2008. Ovviamente la città è cambiata, è mutata nel suo aspetto, è fondamentale poter aggiornare questo documento alle mutate esigenze della città per cui noi chiediamo in questa mozione alla Sindaca e alla Giunta di adoperarsi per far sì che possa essere pubblicato un nuovo piano di emergenza comunale. Però diciamo anche dell'altro che è molto importante. Noi andiamo ad indicare che è fondamentale per un buon funzionamento del sistema della protezione civile di Roma Capitale che ogni municipio si doti di un posto dove le associazioni in convenzione con Roma Capitale possano allocare i dispositivi di protezione personale dei volontari, i mezzi, possono fare delle riunioni, magari far partire le attività della protezione civile. Noi abbiamo visto, per esempio, c'è stato un esempio anche nel corso della nostra legislatura che al municipio 11 si sono autonomamente organizzati per realizzare un polo con le associazioni del loro municipio. È un metodo di lavoro molto efficace perché la protezione civile funziona bene quando c'è una testa che controlla tutta l'attività della protezione civile ma collabora con le associazioni di volontariato. Per questo c'è un bando annuale dove vengono selezionate delle associazioni alle quali viene dato un punteggio e c'è una convenzione con Roma Capitale. Ecco, noi chiediamo in questa mozione una cosa molto importante, che si individuino dei posti, dei luoghi nel patrimonio di Roma Capitale dove allocare questi poli. Non facciamo discriminazioni perché abbiamo intenzione di voler dare un posto a tutte le associazioni in convenzione con Roma Capitale. Ne creiamo uno a municipio, tutte le associazioni che hanno partenza, sede da quel municipio possono avere l'appoggio in quel polo e dunque possono conoscersi tra di loro, poter collaborare, anche se è fondamentale che le attività vengano coordinate comunque da Roma Capitale. Abbiamo fatto anche, come dire, interloquito con delle associazioni e questa cosa è veramente ben vista. Ci sono alcune associazioni particolarmente grandi che hanno già delle sedie e magari non hanno la necessità di trovare un posto dove appoggiare le loro attività, ma la stragrande maggioranza delle associazioni sono piccole e trovano l'idea di poter realizzare un polo a municipio, un'idea decisamente ottimale per far sì che la protezione civile possa avere una funzionalità efficace di interventi immediati sul territorio. Diciamo anche altre cose. Nel corso del tempo sono state emanate anche delle delibere da parte di Roma Capitale su questo argomento. Una delibera molto importante è la 1099 del 1999. Bene, forse nel corso del tempo questa delibera ha perso un po' il suo smalto e bisogna far sì che questa amministrazione possa controllare il rispetto di questa delibera nel suo dettaglio. Cosa accade? Che la protezione civile nel momento in cui interviene è importante che prenda il controllo della situazione immediata nel caso di emergenza e possa far sì che le persone dentro Roma Capitale che hanno la reperibilità si possano mettere a disposizione della protezione civile per superare l'emergenza. Non solo le persone con la reperibilità, ma anche tutta la strumentazione, gli strumenti in dotazione alla Roma Capitale che possono essere utili al superamento dell'emergenza possono essere messi a disposizione della protezione civile. La cosa importante è che in questi momenti di emergenza la protezione civile possa far riferimento 24 ore su 24 della disponibilità dei dipendenti di Roma Capitale, ovviamente in reperibilità, e della loro strumentazione. Diciamo questo in modo particolare rispetto al servizio giardini, perché il servizio giardini ha molte strumentazioni che possono essere particolarmente utili nel momento di emergenza. Per cui è importante che il controllo venga preso dalla protezione civile e che debbano svolgere le attività indicate dalla protezione civile fino all'ultimo momento. Ora, io vorrei approfittare, nel corso di questi due anni, questa amministrazione ha per esempio fatto, l'aggiunta di questa amministrazione, ha fatto una delibera dove si è fatto un accordo con le associazioni degli albergatori per trovare una collocazione, un'abitazione alle persone che si trovano in crisi di emergenza dovute a delle emergenze momentanee. E' stato fatto un accordo, questo è un fatto molto positivo, nei momenti di criticità è possibile trovare una sistemazione alloggiativa alle persone e dunque è un fatto assolutamente positivo. Vorrei ricordare anche il momento che noi abbiamo vissuto in questa città, nel momento della nevicata, la grande attività svolta dalla protezione civile, da tutti i volontari, ha fatto sì che questa città potesse superare quel momento assolutamente in maniera adeguata, in maniera efficace. Ecco, noi dobbiamo lavorare per far sì che questa attività venga svolta sempre nella maniera migliore e si possa far sì che questa attività si svolga con la capacità, tempestività e efficacia maggiore possibile. Sappiamo già che le persone deputate a questa attività, il Vice Capo di Gabinetto e il Dottor Porta, che è alla direzione della protezione civile, hanno già convocato tutti i municipi per farsi suggerire i posti dove allocare i poli. E' una cosa vista molto bene da tutti quanti i municipi, ma veramente da tutti, per cui c'è una stretta collaborazione su questa attività, pertanto io mi auguro che anche le altre forze politiche possano accettare questa nostra proposta e votare favorevolmente a questa mozione e noi ci impegniamo a far sì di controllare che questa attività venga svolta fino in fondo. Grazie.